Ritorna la bossa nova con Severino Baldi e Moreno Picchi e ritorna il protagonista d'eccellenza di questo genere musicale, Antonio Carlos Giovenna con Corcovado. Andiamo così in Brasile con una dedica alla montagna del Corcovado famosa per la statua del Cristo Redentore che apre le sue braccia a Rio de Janeiro e se nel 67 Giovenna la interpretò con Frank Sinatra nel 2013 è stata la volta dell'interpretazione di Andrea Bocelli ma anche Mina non ha disdegnato questo brano. Il pezzo è la fotografia di un istante. C'era una finestra a Rio de Janeiro nel 1960 e un appartamento che dava su Rua Nascimento Silva numero 107. In quella stanza, in quell'anno viveva Antonio Carlos Giovenna. Una dolce canzone, una chitarra, questo è amore. Una canzone per far felice chi ha amato, molta calma per pensare e aver tempo per sognare. Da una finestra si può vedere il Corcovado, l'autore nel suo angolo di mondo, una chitarra, il Corcovado simbolo di Rio de Janeiro e il desiderio che non la cambi. Tutto questo anche nell'interpretazione di Severino Baldi e Morano Picchi. A livello inference di Quattro in balcati, il T Wagner, in cui Mario Kap gli 117 è Come a fa' KN spaz? Ho Pazzinio governò, questo è il quattro frisci possono non c'è l'impaz? Leaf, un'impaz man con per pensare. amare qui ti chiamo a far pensare e per il tempo per il sogno da genere pensi col compagno e tu che lindo che è una vita sempre assente con voi per dove mi a te o paguero da verra rama o che era triste di oscrento desse mondo ha de encontrar o cegol de ti o che è felicidade e o amor oват e o o o o Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.